Presidente Lattanzi, in molti si aspettavano un'affermazione del centrodestra a queste ultime elezioni della provincia, invece c'è stato un pareggio 5 a 5? Io non voglio passare per quelli che affermano, lo avevo detto, però già nel mese di settembre era uscito sulla stampa quello che in qualche maniera era mio pronostico e auspicavo una situazione di pareggio. Perché questo? Perché di fatto le urne hanno confermato che sul territorio c'è stata un'affermazione, un pronunciamento del centrosinistra e mentre a Terni per la nota vicenda del voto ponderale c'è stata un'espressione in età del centrodestra. Ovviamente queste elezioni cadono in un momento particolare, nel senso che la maggior parte dei comuni andranno a rinnovo tra 4-3 mesi, quindi questo può aver influito sull'affluenza alle urne, appunto perché molti consiglieri non si riproporranno alle prossime elezioni, alcuni arrivano luogo ristanchi, quindi forse 3-4 punti percentuali in più di affluenza potevano anche esserci, però tutto sommato un risultato che si attesta intorno al 70% credo che sia positivo e quindi potremo sin da giovedì, che ci sarà convocato il prossimo consiglio comunale, per lavorare nell'interesse del territorio e proseguendo un po' i programmi che erano in essere nella provincia, rinnovati da nuovi contributi che stanno arrivando per riprendere il cammino operativo delle province stesse. A questo punto il suo voto sarà l'ago della bilancia? Sicuramente sì, però il mio interesse è quello di, come dire, la provincia ancora sta lavorando sulla base della legge del Rio e quindi come ente di area vasta che è espressione dei comuni e quindi lavorare nell'interesse di tutti i comuni ovviamente a partire da quello di Terni fino al più piccolo della provincia.